Negli ultimi giorni il canale ha raggiunto un piccolo ma importante traguardo, quello dei 100 iscritti. E finalmente posso permettermi un indirizzo personalizzato, passando da così a così. Decisamente meglio. E per questo ringrazio tutti i vecchi e nuovi iscritti. Grazie. Vorrei anche darvi un'anteprima di quello che sto preparando per le prossime settimane. Al momento sto mettendo assieme un paio di video su The Division 2, una guida ai trofei per zaino e un video sulla cripta segreta di Roosevelt Island. Mentre dal 14 maggio darò un'occhiata a due nuovi giochi. Il primo è A Plague Tale Innocence, un gioco ambientato nella Francia Medioevale durante il flagello della peste. Il secondo gioco è Rage 2, il seguito di un titolo interessante, anche se con qualche difetto. Per ora è tutto. Io sono Thor, vi auguro una fantastica giornata e vi saluto. Grazie di nuovo per avermi seguito e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.